Ben tornati su Radio Puginione Air. Oggi, 13 maggio, Bianca Berlinguer, in un posto su Facebook, ha annunciato che la tomba di Enrico Berlinguer a Roma è stata vendalizzata. La denuncia proprio la figlia, Bianca, in un posto su Facebook. La giornalista definisce un atto ignobile e vigliacco il gesto che è stato ripetuto due volte nell'ultimo mese. Nei 40 anni dalla morte del padre, Bianca Berlinguer racconta che una cosa del genere non era mai successa. La tomba del segretario del Partito Comunista era sempre piena di fiori portati da tanti che volevano rendere così omaggio alla sua memoria e questo era di grande conforto per noi figli. I vandali si sono accaniti rompendo vasi e distruggendo l'agliuole. Leggiamo il post su Facebook parola per parola. Nei 40 anni dalla morte di papà, la sua tomba è stata sempre piena di fiori, portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell'ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno, una o più persone. Vasi distrutti, fiori buttati e agliuole calpestate, un atto vigliacco e ignobile. Il fatto si commenta da solo. Con questo è tutto da Radio Puggini On Air.